e ciao a tutti bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi un video un po speciale oggi un video su un gioco davvero molto molto promettente desidero ringraziare come prima cosa ciccio pupazzo per avermelo fatto conoscere anche i medi gli sviluppatori per avermi medere dynamics per la precisione per avermi consentito di accedere al gioco il gioco attualmente non è ancora su steam cioè su steam lo trovate ma non è acquistabile né scaricabile lo trovate su iccio itch o costa 17 e 49 oppure di più se vi sentite di donare di più a questi sviluppatori iccio è una sorta di steam ma con progetti spesso molto più sperimentali con giochi in alfa o peri alfa addirittura qua siamo nell'alfa ha raggiunto una versione stabile alla 0.3 ma quella che andremo a vedere adesso è una 0.4 punto 3 mi pare che è una sperimentale il gioco il gioco ha una grafica una meccanica soprattutto più simile a minecraft ma è una sorta di satisfactorio come vedete produzioni catene di produzione rulli e una grafica a cubi ma ci gettiamo subito a vedere il gioco il gioco lo giocheremo senza musica perché il sviluppatore mi ha detto che potrei andare incontro a qualche reclamo sulla sulla privacy sulla royalty insomma della della musica quindi lo giochiamo senza musica e ci ritroviamo subito adesso all'interno del gioco ed eccoci qui all'interno di foundry lo stiamo giocando in modalità sperimentale punto potrei scaricarmi tranquillamente anche la versione stabile però guardiamo dai allora voglio disattivare subito la musica la musica sarebbe così la metto magari a 4 giusto per non per non avere problemi magari no la mettiamo a 0 dai lasciamo però gli effetti e il master volume più alti allora ho già iniziato una partitella giusto per l'ho provato però ho detto lo registriamo che è più figo allora praticamente che cosa ho fatto all'inizio con questa mappa sono dovuto andare a scavare le due risorse principali ve le faccio vedere vedete si può scavare e andiamo abbiamo scalato della della terra adesso sto andando verso questa zona qui vedete qua c'è il primo tipo di metallo lo scavo e abbiamo raccolto la xenoferrite poi ce n'è un'altra invece che quella più bluast questa è la mappa iniziale che abbiamo scoperto e ora andiamo a vedere tutto con il tasto c abbiamo il crafting che ricorda molto se vogliamo factorio e se vogliamo anche un pochino satisfactory ora andiamo sulle strutture components handle quindi la nostra trivella la metallurgia i buildings c'è anche il laboratorio di ricerca ovviamente dobbiamo graftare una fornace primitiva la fornace primitiva si fa con la xenoferrite e il tecum ore quello con metallo che abbiamo appena realizzato adesso io mi costruisco subito una fornace me la produce la vedete lì in basso a in basso a sinistra e l'abbiamo nel nostro inventario che apriamo con il tasto b ora costruiamo la primitiva fornace primitiva e la posizioniamo qua nel menu veloce e la andiamo a costruire qua vedete che abbiamo il pannello ma volevo farla in un luogo un po più aperto forse meglio meglio qui magari no vabbè piazziamola ora craftiamo 40 xenoferrite plates quindi 40 piastre di xenoferrite e 20 bastoni di tecum dal tecum ore questa la sto guardando per la prima volta insieme a voi quindi mi piace moltissimo il pannello così craftiamo la xenoferrite plates dobbiamo farne 40 vabbè manage inventory praticamente andiamo a fare con f2 un riassunto c'è una bella guida che ci spiega cosa fare il fiore ci mettiamo biomassa ad esempio che scaviamo ad esempio dalle piante in questo caso ci inseriamo il tecum ore che iniziamo no cominciamo con i rods dai no con le piastre dai quindi ci inseriamo la xenoferrite ore la piazziamo lì ok ce l'ha già inserita perché la vediamo qui sì non devo trascinare da qui ma qui e il fuel ci mettiamo la biomass ok inizia a produrre adesso devo capire ok da qua si raccoglie è molto bello perché questo viene trasposto direttamente qui quindi se ci allontaniamo possiamo vedere cosa sta facendo dobbiamo farne 20 cioè scusate 40 e poi andare a farne altre dell'altro materiale intanto io taglio un po di legno e ottengo biomassa intanto inizio a liberare un pochino il campo qua intorno è un gioco che ha anche il multiplayer quindi potete stare potete ospitare amici come ho detto al momento si scarica ed è un file zeppato con dentro l'eseguibile ed eseguite il gioco è tipico dei giochi che acquistate o provate anche in versione gratuita su iccio poi sicuramente in futuro uscirà versione steam che sarà sicuramente più comoda però se avete la foga la voglia di provarlo beh sicuramente potrebbe essere molto interessante la biomassa la butto tutta dentro così almeno iniziamo a produrre vedete io adesso le prendo ne ho un po' se ne farete plates ne fate 30 perché si 30 più 32 forse sì 33 a 40 fermiamo la produzione allora 36 37 40 perfetto voglio fermarlo reset task ok configura facciamo il tecum rods ci mettiamo dentro il tecum or lo mettere qui scusate e iniziamo produrre anche questi così abbiamo prodotto entrambi i pannelli non so dirvi molto di più se ci siano nemici o meno bisognerà un pochino esplorarlo e magari ci potremmo fare anche una live insieme però questo secondo me è totalmente cioè è incredibile mi piace davvero tanto questa cosa di ciccio o può essere lui o qualsiasi voi mi consiglia un gioco questo gioco che probabilmente avrei acquistato anche se non avessero contribuito gli sviluppatori però molto bella anche questa cosa che comunque danno fiducia al canale per farlo conoscere in italia credo come diceva ciccio probabilmente non l'ho portato ancora nessuno non che ci sia la gara su queste cose però mi fa sempre piacere ok abbiamo fatto tutti e due io interrompo devo capire come fare lo spengo probabilmente manage inventory mi riprendo gli oggetti con shift funziona ora mi dice craft a 20 building blocks piazza 20 building blocks come una foundation vicino a un or deposit addirittura vabbè intanto qua è un bel problema perché non so dove ho messo la la fornace però non fosse se la vediamo qua si la fornace si una fornace base andiamo qua adesso facciamo un po di spazio graficamente non è male non è neanche al massimo perché potrei puntare molto più in alto come grafica e mettere una distanza di rende in maggiore ora di 300 metri però mi sembra oggi è tutto abbastanza a alto non ho voluto stafare adesso non ho idea di come fare a cartare quella building blocks proviamo components metallurgie buildings no building blocks vabbè proviamo f2 ci spiega building blocks come si fa fare crafting menu e vediamo un attimo building blocks intanto possiamo fare g e il pannello di ricerca e non c'è ancora niente perché non abbiamo l'edificio posso prendere infatti un po vedere l'inventario abbiamo questi due devo capire come fare il building blocks o forse lo facevamo con la fornace torno un po vedere vediamo vediamo soprattutto quale dei due mi mi ha segnato come fornace questa il pallino blu vediamo se abbiamo altro che possiamo fare qui tasca configura no metallurgia no assolutamente niente quindi è resetto il task riproviamo a farlo vediamo un attimo adesso se se trovo questo poi come capita anche in in satisfactori mi rimane nell'inventario la fornace vedete sul tasto 2 in basso ma non ne ho più quindi non posso più farlo allora vediamo un attimo con c se abbiamo metallurgie no vedete richiede smelta vediamo conveyor loader biomass eccolo che ha building block ne voglio fare un tot ne fate 15 ne faccio 20 giusti giusti quelli che mi servono ora li piazzo qui e ne mettiamo magari un blocco di di 5 magari no place building block vicino al cosa allora mettiamone adesso vediamo se mi da sì direi 4 per 5 mi dice vicino non necessariamente quindi possiamo fare 1 2 3 bello che mi ancora proprio da solo 3 4 5 poi 1 2 3 4 5 posso piazzarlo lì no ma adesso abbattiamo l'alberello e piazziamo l'ultimo bella la bussola in alto a sinistra che ci mostra anche l'altitudine a cui ci troviamo crafta un drone miner costruisce un drone miner sulla foundation quindi praticamente andando con c dovremmo avere il drone miner 6 electronic components non abbiamo tutto quello che serve perché ci mancano un po' di materiali allora allora vediamo un po' qua diventa complicata electronic wire coil techum rods e insomma ci mancano un po' di un po' di roba eh dobbiamo andare a farla ah no l'ho fatta l'ho fatta ok questo sono riuscito a farlo ma per fare il drone miner ci servono 10 xenoferite plates e 8 machinery parts 8 machinery parts quindi machinery parts me li faccio li facciamo istantaneamente strano perché poi da non ci serve nessuna smelta per fare questo boh 8 machinery parts ne abbiamo poche perché ne abbiamo 3 quindi la prima cosa che facciamo è adesso stopperò un attimo insomma e vi vi rimando direttamente a quando abbiamo finito eh scaverò quello che manca ok qua sta producendo ancora e glielo glielo lascio fare intanto io mi riporto dove sulla mappa vedete che abbiamo costruito quelle foundation intanto è diventata notte però come vedete in basso sotto la bussola alle 6 di mattina sorgerà nuovamente il sole intanto sto sbagliando completamente adesso possiamo finalmente andare a costruire la drone il drone miner quindi praticamente l'abbiamo costruito l'abbiamo messo in inventario ancora abbastanza grezzino come come concetto diciamo di costruzione però ci sta build on the foundation essendo così lo mettiamo al centro ok abbiamo finito il task ora dobbiamo fare il biomass generator quindi mi sa che dovremo anche andare a questo biomass mi fanno i generatori mi fanno impazzire allora per fare il biomass generator abbiamo bisogno vediamo un attimo se lo troviamo subito create no molto interessante però anche quello smelter primitive for mass biomass generator ci servono cinque electronic components li possiamo fare no ne possiamo fare solo tre quindi adesso torno immediatamente alla mia fornace e vediamo che cosa ci serve per fare quello lì allora molto comodo possiamo prendere tutto allora facciamo le wire con i tecun robs quindi io adesso mi prendo i tecun robs mi faccio allora quindi vedete che ci segna quello che abbiamo machinery parts e electronic components 6 e 8 quindi electronic components 6 quindi ok possiamo farlo sì abbiamo tutto biomass generator creato messo in inventario si torna nuovamente sul posto poi il gioco è un po' che migliorare perché col tempo mi sembra assolutamente non male soprattutto questi pannelli mi piacciono tantissimo allora mettiamo il biomass che abbiamo generato lo mettiamo qui e con il tasto 5 lo posizioniamo devo capire come ruotarlo con l'altasto R lo metto qui ora craftiamo uno smelter un loader dei conveyor e poi costruiamo uno smelter quindi al momento vi salterò questo passaggio perché ovviamente tutto qui quindi mi baso io su quello che ho e vi voglio far vedere almeno la prima prima catena di di produzione abbiamo il controllo ho qualche problema sta a dire un po' la minecart fa il gradino da solo quindi se andiamo avanti in scala ok vado vado avanti e ci sentiamo poi quando finito ok qua lo lasciamo andare avanti in produzione ma al momento dovremo avere tutto quello che ci serve allora adesso andiamo inizio un pochino a no a imparare la strada dobbiamo piazzare uno smelter sulla foundation quindi prendiamo la smelter e doveramo farne doveramo farne due ne prendo una lo smelter che è questo lo piazzo sulla foundation quindi lo prendo e lo metto qui ma non ci sta il credo no no non posso metterlo qui devo fare dovrei eh dovevo forse metterlo meglio vabbè possiamo allargare un pochino la foundation dai la allarghiamo un po' demoliamo anche quest'albero che ci dà fastidio intanto è sempre più note ma tra poco sorgerà nuovamente il sole vediamo ci sta qui si me lo fa costruire è una roba un po' così costruisci il research lab cioè praticamente ho fatto questo vediamo un po' se lo distruggo se me lo lascio prendere no la cosa bella che vedete ho con il tab potete shiftare tra tre barri diverse da 10 slot l'uno con la lettera V aprite il tablet che vi dà ogni elemento e con Q&A passate con la possibilità di andare e copiare ctrl più tasto destro del mouse e incollare ricette quindi praticamente se avete già i materiali cliccate il destro line e create un altro senza dover passare ogni volta dal menu comunque qua ho fatto una cavolata immensa perché me l'ha fatto piazzare lì ma in realtà non è stato molto 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 chiaro come cosa infatti adesso voglio vedere se riesco a demolirlo ma sembrerebbe proprio di no z demolition mode ok lo demolisco e lo riposiziono quindi il tasto 5 lo metto qui magari così mi è più comodo controllarlo perfetto ora dobbiamo costruire la cosa interessante il laboratorio di ricerca xenofredite plates e machinery parts quindi andiamo a vedere insieme anche quelli che sono le ricerche da poter fare mentre sorge il sole io adesso mi metto subito al lavoro ok possiamo fare il laboratorio di ricerca build laboratorio lab research lab scusate lo produciamo lo abbiamo prodotto dove ce lo fa posizionare adesso lo sta costruendo vedete qua in basso a sinistra e vediamo adesso la quest cosa ci dice di fare l'abbiamo costruito beh lo piazziamo normalmente immagino adesso vediamo come è fatto ma credo si possa piazzare normalmente per avanzare perfetto ok è bello grande però sto a fare qua quindi operazione operazione asfalto che ride lo mettiamo magari qui che c'è un bello spiazzo bello grande mettiamo qui quindi vado a scavare un po' di un po' di biomasse in modo da fare un po' di un po' di spazio vediamo se ci sta qui mi dava il verde qua ma no perché no perché secondo me dobbiamo demo aperta aperta me lo faccio fare qui qui aspettiamo bello me l'ha fatto proprio di fronte alla fornace ci sta finisci le research lab quindi praticamente dobbiamo inserire 200 xenofarite plates machinery parts wire coil dobbiamo produrre queste cose e finire quello in realtà qua non ci ha spiegato una fava di come fare la produzione quindi io adesso vorrei provare a studiarmela per conto mio e vedere se ci capisco qualcosa allora praticamente shutdown on 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 e qua li carichiamo ok e qua possiamo avviare ok grid stats biomass generator drone miner ok perfetto allora fatemelo spegnere vedete i devoni che escono e vanno a scavare eccoli start però non so dove si fa da fare questo è uno smelter ma non mi spiega ancora niente quindi probabilmente non abbiamo ancora voglio capire cosa fanno i droni qui i droni stanno già iniziando a scavare ah ecco qua drone status stanno recuperando materiale il bello è che non li scavano direttamente da qui così ma li scavano direttamente dal terreno quindi vanno e recuperano ne hanno già recuperate 40 molto bene perché qua probabilmente poi avrà un'uscita vediamo se abbiamo modo di piazzare qualche cosa che magari mi ha fatto fare tipo i conveyor vediamo un po' come funzionano machine loader belt ah il loader dobbiamo piazzare praticamente noi con il loader il caricatore vediamo un po' abbiamo il loader che ne abbiamo due adesso stiamo un po' improvvisando per non farci comunque sovracchiare dal tutorial allora praticamente ottimo qui mettiamo il loader e poi ci mettiamo il belt la belt o il belt belt è qua e si funziona che spettacolo possiamo ruotare e li va alla fonderia quindi qua che bello vai qui e poi gira dentro di qui vediamo un po' no di là vediamo se funziona così no perché sono un babbano devo fare la curva per un po' che provo a demolire vediamo un po' se me lo fa fare così a curva non lo so build mod snap no ok ok si tra due me lo fa dopo me lo fa a rotazione quindi dovrei tecnicamente eliminare questo e rifarlo nuovamente me lo farà fare probabilmente a così no non ho ben capito il motivo per cui non me lo fa probabilmente devo demolire questo e farlo dopo girato di là si non ho capito la logica di tutto questo ma va bene allora abbiamo un'entrata dello smelter credo se questa è l'entrata se no abbiamo cannato tutto devo andare a farne un altro però intanto intanto abbiamo già qualcosa di buono anzi fatemi vedere se mi spiega qualcosa su first production praticamente è tutto guidato quindi si esce si va lì conveyor automation loader ok no 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 ho sbagliato andrebbe messo un altro loader credo quindi proviamo siamo propriamente in fase sperimentale qua il loader lo carica lì così perfetto quindi a questo punto tecnicamente possiamo andare a mettere questo qui e dovrebbe caricarlo no per le palle invalid ok perché lui carica da lì vediamo un po' se mi fa scegliere qualcosa qui sto diventando scemo a forza di output ah ok e qua input toggle si ma hai un po' scartavetrato adesso eh fatemi vedere qui e output è qui e non me lo fa vedere però tecnicamente dovrebbe essere qui vai avanti e qui giri in dentro no ok ok invalid connection io clicco output no foundation intake no foundation ah devo mettergli una foundation allora aspettate un po' forse ha bisogno di questo sotto per funzionare anche qui intake no power no power finita già l'alimentazione no no grid drone mine loader probabilmente perché non sono connessi quindi la connessione è alla base di tutto per poter essere tutto alimentato quindi dovrò connetterlo lì così adesso è tutto connesso tecnicamente infatti intake adesso dovrebbe funzionare però qua dice invalid 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 connection sì perché probabilmente questo non gli piace dovrò metterne un altro adesso dovrebbe andare no allora demolisco questo lo faccio avanti beh sì sicuramente poi ci sarà modo di di capire è bloccata da un'altra struttura ok quindi esce da lì sotto entra probabilmente dovrebbe entrare di dritto beh facciamogli fare il giro se proprio vuole essere così così non vuole entrare in curva va bene facciamogli entrare così 1 2 3 mamma mia sto divagando ma devo capire ancora ok adesso adesso va 1 2 gira di là dritto 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 e ancora dritto adesso funziona ok intake output intake intake ok questa è la fonderia ma in realtà non ho ancora idea di come fare però intanto posso andare a fare manage e mi pesco tutto allora questa dovrò capire come configurarla mass missing building foundation ok quindi praticamente mi mancano tutte le foundation per renderla funzionale quindi dovrò andare a produrmi ancora delle foundations che tra l'altro posso fare direttamente da qui xenofarite plates che tra l'altro devo farmi le xenofarite plates quindi diventa abbastanza complessa la cosa però di là abbiamo un bel perché dobbiamo produrne un bel po' per poter finire questa struttura qui ora ora xenofarite plates infatti ora io vi invito a farmi sapere io intanto continuo quello che se non farete plates perché stiamo producendo molto 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 mi invito a farmi sapere se poi volete anche i tecumrozza potrebbe essere un problema vabbè intanto vi invito a farmi sapere se volete che continui questa serie soprattutto prima ancora di questo se il gioco vi ha incuriosito se il gioco vi ispira se è stata una sorpresa se lo conoscevate se non lo conoscevate fatemi sapere cosa ne pensate perché il gioco sembra essere davvero molto interessante e sono contento di essere stato comunque uno dei primi a portarlo farvelo conoscere spero di appunto che sia così perché mi darebbe molto mi farebbe molto piacere questo era Foundry non abbiamo visto molto il tutorial sembra anche bello bello profondito bello lungo però vi butto lì questo video e poi prossimamente ci facciamo magari una live ragazzi io con questo vi saluto vi ringrazio e vi rimando al prossimo video in play alla prossima ragazzi e ciao 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 ciao